Buongiorno a tutti, al nome dello staff dello Sporting Riedi desidero fare un augurio sincero a tutti i bambini e i ragazzi, non solo della nostra società, a far arrivare un seno di comprensione e vicinanza anche ai genitori che si trovano di affrontare molti difficili difficoltà. Ciao ragazzi, volevo augurarvi un buon anno scolastico e dirvi che questo, come sapete, sarà un anno particolarmente difficile, ma noi e le vostre famiglie abbiamo fiducia in voi e sappiamo che riuscite a superare tutto con la stessa forza, la stessa determinazione che mettete durante ogni allenamento e ogni gara. Ragazzi, ognuno di voi sa fare bene qualcosa e ha tanto da aprire. Noi lo sappiamo, voi avete l'opportunità di scoprirlo. La scuola è un luogo importante della vostra crescita umana, culturale e sociale, quindi assaperate la conoscenza perché quello che imparate oggi sarà prezioso per la sfida che vi presenterà il domani. Buona scuola e Go Sporting Go! Un abbraccio a tutti!